Ieri ho letto che lei su Twitter scriveva Sto ascoltando un ciarlatano parlare di Eurobomb, di politica estera e di fisco Sembra un comico dalle fesserie che dice Eppure io ho la sensazione che lei, quelle cose che ha detto ieri Grillo, molte le ha condivise Quando ha cominciato a fare la sua esperienza col Movimento 5 Stelle, no? Sì, e molte erano anche riportate Questo VD è stato molto vuoto rispetto agli altri O meglio, ha ripreso vecchi contenuti storici Come i rifiuti, l'acqua Facendo parlare più o meno le stesse persone che parlavano negli anni passati E la grande novità di questo VD, ricordo il primo era per la legge Proprio sulla legge elettorale, il secondo è stato sull'informazione Questo doveva essere un VD per spianare la strada alle elezioni europee Ma i grandi contenuti politici non ci sono stati Ovvero, ha detto di rinegoziare i parametri europei Ma più o meno è una cosa che dicono tutti E ne ha parlato anche con poca competenza, mi avviso, per le fesserie che ha detto Poi ha detto di fare un'alleanza con gli stati del sud Europa Anche questa è una cosa che si dice Ma non è un punto programmatico È una cosa che eventualmente un governo va quando si si dà i tavoli in Europa E cerca di fare alleanze, di fare accordi Credo che continui a non esserci nulla È un movimento, siamo passati dal partito azienda al partito agenzia di marketing Si chiude nella stanzetta con Casaleggio Decide cosa dire, cosa può far leva sulla gente I parlamentari sono stati completamente tagliati fuori Che almeno loro, visto che questa intelligenza collettiva del popolo Che dovrebbe essere utilizzata, Grillo non la utilizza Almeno l'intelligenza di quei parlamentari che hanno delle capacità Allora la fermo, perché Grillo ha detto che aveva sette proposte Che saranno proposte che saranno condivise con i cittadini attraverso una nuova app Quindi spiegheremo anche questo Ho visto che tra l'altro Rellano ha detto Proposte condivisibili ma non condivise con noi Quindi che temo anch'io che nei rapporti tra i vertici e i parlamentari Ci siamo anche problemi Se ci avete fatto caso, nella giornata di ieri Non è stata detta una parola sul tema dell'immigrazione Che per il Movimento 5 Stelle continua ad essere un problema Non hanno superato la crisi legata al famoso emendamento Che abrogava il reato di clandestinità Qui casca l'asino, come si dice Nel senso che è pura propaganda Casaleggio parla di democrazia diretta Perché è una cosa che fa presa Ma non la riesce ad attuare nemmeno all'interno del movimento Che forse è il movimento con meno democrazia Perché nemmeno Berlusconi ha il controllo sul partito come Grillo Ce l'ha sul Movimento 5 Stelle Quindi è pura propaganda Io ho creduto in buona fede a tantissime battaglie giuste Perché il Movimento è soprattutto fatto anche da singole battaglie giuste Ma manca di una visione culturale generale Cavalca l'attualità, cavalca le questioni che portano indignazione Come la cancellieri, eccetera, eccetera Le cavalca un po' anche da sciacallo a volte E così prende voti Ma non c'è solo il consenso Visto che stiamo scherzando col futuro del Paese Un movimento al 25% Che non riesce ad avere una linea con 160 parlamentari sull'immigrazione Perché sennò perderebbero voti È imbarazzante Allora bisogna dire la verità Non sono il nuovo che avanza, il bello, il pulito Il futuro dell'Italia Sono sicuramente una forza politica che ci voleva Perché una classe politica cialtrona ha disgustato gli italiani ormai Però purtroppo non è la risposta Ha delle lacune che non vuol superare Perché, ripeto, è un partito, agenzia di marketing Proprietario Di cui i dirigenti sono Grillo, suo commercialista e suo nipote Statuto depositato al Viminale Con un finto non statuto Cioè è una cosa che va detta Allora Ha un sito che è un'attività commerciale Su un logo istituzionale depositato Su cui Casaleggio fa profitti Basta Diciamo poi sarò rispettato Ma non possono nemmeno prenderli ormai con queste norme Perché non hanno uno statuto democratico Quindi non riuscirebbero neanche ad avere un accesso